Eleonora Pedrono un amore durato due anni e improvvisamente naufragato per il volonte di Max Biaggi. Una rottura che Bianchezzi è vittima di questa situazione e non riuscita a spiegarsi. Stata una bomba esplosa all'improvviso. La nostra storia finita e non so nemmeno Perce. Sto male, ma spero che Max ci ripensi Perce io lo amo ancora. Ora per alcuni settimanali ipotizzano che dietro la rottura tra i due ci sia niente meno che Eleonora Pedrono, ex di Biaggi e madre dei suoi due figli, secondo diva e donna, ha un'amica che avrebbe rivolto a Biaggi la domanda sul possibile ritorno di fiamma con la ex Miss Italia. Il centauro romano avrebbe risposto. Non ho nulla da poter dire. Sai come sono queste cose? Meglio starlo profile. A sostegno di questa stuzzicante ipotesi ci sono poi alcuni indizi. La Pedrono, che da qualche mese frequentava il DJ Tommy V, ha fatto sparire dai social l'unica foto che la ritraeva con lui. Nello stesso tempo Biaggi posta spesso e volentieri foto con i figli avuti dalla ex Miss Italia. Che il terribile incidente di quei Biaggi stato vittima quest'estate non abbia realmente riavvicinato la coppia. Altro su MSN. C'eravamo tanto amati. Quando i VIP soffrono per amore. Rai. Sponsorizzato. Risparmia il 35%. Xbox One S da 500 GB o 1 TB. L'ombra della guerra più secondo gioco gratis. A scelta tra FIFA 18. Call of Duty WWI o Forza Horizon 7. Acquista maggiore maggiore.